Rafforzare il senso di solidarietà e sostenere la cultura del dono del sangue, sensibilizzando i giovani e i cittadini. È questo l'obiettivo della mission itinerante di donatori nati Polizia di Stato, che oggi 22 novembre ha fatto tappa a Caivano con un doppio appuntamento. Questa mattina donazione di sangue a bordo di un'autoemoteca posizionata nella parrocchia San Paolo Apostolo del Parco Verde. Sono stato donatore di sangue per anni e anni, poi non ho potuto più per motivi di salute, però voi che potete, per cortesia, donate la cosa più preziosa che non si può costruire in laboratorio, il vostro sangue. Il sangue è vita e il vostro sangue può salvare una vita. Poi non succederà niente, state sereni, anzi sarete un poco meglio di come state adesso. E il giorno in cui magari è possibile che succederà qualcosa a voi e ai vostri figli, voi avrete altri fratelli che hanno donato il sangue per voi. Dio vi benedica, occorrete donare il sangue. Donatori nati è impegnata da anni su tutto il territorio nazionale con gli appartenenti della Polizia di Stato e dei Vigili del Fuoco, per diffondere la cultura del dono, che nel caso del sangue è un salvavita che diviene strumento di legalità, conquistando ad uno stile di vita lontano da eccessi, giovani e meno giovani. Ora, io intanto voglio fare le relazioni di nonno del rituale, perché mai avrei pensato di affrontare questo tema di tanto caro, perché credi, no, non ci vanno, 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 è importante